e ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning With Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo a osservare due trend importanti ma soprattutto andremo a osservare che cosa sta accadendo sui mercati perché questa puntata volevo incentrarla un pochino di più sull'analisi tecnica sul capire la situazione insomma fare un po' di zoom out e capire dove ci troviamo ma come sempre prima di partire vi invito a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati date un'occhiata anche ai link che trovate in questo sotto in descrizione con le principali promo del settore insomma vi danno gli sconti più elevati e soprattutto aiutate anche il nostro canale a sostenersi insomma che è fondamentale per potervi portare tutti i giorni questi contenuti in maniera totalmente gratuita detto questo ragazzi partiamo perché appunto volevo subito discutere di un argomento cioè quello di MicroStrategy allora molti di voi sia sui gruppi che online che su X che dove volete hanno un po' questa concezione che Michael Saylor attraverso MicroStrategy sia una sorta di guru ok bene allora voi dovete capire che effettivamente queste persone hanno un'azienda e soprattutto hanno degli shareholder quindi hanno degli azionisti e fanno degli investimenti ora è uscita questa notizia che MicroStrategy ha annunciato una nuova offerta di fondamentalmente obbligazioni che appunto mirano a raccogliere 700 milioni di dollari entro il 2032 sono convertibili insomma non entriamo nei dettagli dei tassi eccetera il concetto dove sta? Che questi soldi ovviamente a cosa serviranno? immaginate un po' al 90% per andare a comprare Bitcoin nuovamente a mercato ora bisogna sempre stare molto attenti io ho sempre stato una persona un po' non dico scettica nel senso ma un po' che il fatto che una persona come Michael Saylor attraverso MicroStrategy detenga così tanta supply sia fondamentalmente un bersaglio mobile ok quindi è un individuo e una compagnia più che altro unica che può essere presa a bersaglio per generare liquidazioni o mettere in difficoltà nel caso anche di liquidare dei Bitcoin ora non mi sembra non è la teoria del complotto ok ma è semplicemente il fatto che preferisco ok nel mondo ideale avere una eventuale distribuzione di queste supply un pochettino più mischiata proprio per non andare ad incorrere nei problemi che potrebbero esserci su un individuo singolo ok capite bene che se domani MicroStrategy iniziasse a vendere scatenerebbe il panico probabilmente nella maggior parte dei Bitcoin che andrebbero a ribellarsi dicendo che sono stati traditi da il nostro amico Michael Saylor ricordatevi che la stessa cosa è accaduta con Elon Musk quando appunto comprò Bitcoin venì insomma incensato come il nuovo salvatore del mondo quando ha venduto una parte di cui Bitcoin ha iniziato a spostare un pochettino il focus è stato preso a sputi in faccia quindi insomma a me queste figure piacciono fino a un certo punto in ogni caso appunto del profitto verrà preso prima o poi da MicroStrategy non deterrà per sempre Bitcoin soprattutto per il fatto che ripetiamo MicroStrategy è di Michael Saylor di cui è SEO ma negli anni successivi non sappiamo cosa può accadere a una persona singola quindi insomma dimanete sempre un po' col campanellino acceso ecco questo è il mio consiglio nell'ottica di quello che sta accadendo con MicroStrategy non appunto fate dipendere dalla FOMO su questi individui ma non perché non siano simpatici o non siano Bitcoin favorevoli o altro io non ho nessun pregiudizio ai confronti nessuno anzi mi fa piacere stringerei la mano a Michael Saylor volentieri ma in ogni caso appunto rimangono un pochettino no? delle cose che poi sui mercati non sempre sono positive in ogni caso tornando a noi volevo anche parlarvi degli RWA perché appunto prendo come spunto anche il tweet di Polkadot che è molto interessante fa capire un pochettino questa previsione che nel 2030 è un mercato che dovrebbe valere 16.1 trilioni di dollari ok quindi billion in ogni caso siamo qui ok oggi il mercato ne vale 1.5 e appunto questa è una ricerca che arriva dal Global Agenda Council e fa vedere come effettivamente può andare a crescere in maniera esponenziale effettivamente gli RWA sono a mio parere una cosa interessante qui vi da tre diciamo zone di azione che hanno questi RWA che sono real estate quindi l'immobiliare, l'arte e le commodities certo tutte le cose diciamo che ha senso tokenizzare nella blockchain per rendere poi effettive il vero possesso insomma della fattispecie che stiamo considerando Polkadot è interessante per questo? sì perché molte aziende in realtà di serie A stanno andando a investire con dei round di capitale all'interno proprio di Polkadot per la sua sicurezza e la sua scalabilità è una, lo sapete Polkadot com'è nel senso non è una chain che va a strappo ok è una chain che va a fornire infrastruttura importante se andando a investire qua dentro e crescerà crescerà probabilmente tutto l'ecosistema non sono consigli di investimento nei finanziari ma insomma tant'è e è importante che anche Polkadot a mio parere dia appunto un grande supporto e soprattutto sia focalizzata su questi trend emergenti perché poi sono quelli che vanno a fare narrativa benissimo andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore, troviamo Brett che fa un più 13% Jasmine un più 11, Lidodau un più 8, Dog un più 7, Jupiter un più 7 Pendle un più 5, Core un più 5 insomma qualche nome, soprattutto meme diciamo sta andando a crescere tra i losers abbiamo Not che fa un meno 8 iCash che fa un meno 5, BitTorrent un meno 5, Oasis mercato un po' spezzato diciamola così mercato un po' spezzato perché Bitcoin nel weekend non ha avuto granché di movimento sì c'è stato un piccolo recupero dai 65,9, 66 mila dollari della chiusura ha chiuso il weekend 66,7 praticamente è rimasto fermo in questo weekend anzi ha riaperto andandosi a ripescare guardate giusto per farvi capire andandosi a ripescare praticamente questo gap del sabato e domenica e attualmente appunto è stato bloccato dalla 50 daily non abbiamo avuto un bellissimo diciamo aspetto un bellissimo segnale ecco sul crocio ribassista 12,26 infatti vedete come effettivamente il prezzo abbia avuto più difficoltà in questa zona di recupero ma in ogni caso staremo a vedere se ripeto non dovessimo avere continuazione dovessimo fare una cosa di questo genere ok potrebbe potremmo scendere eventualmente in queste zone qua anche ritestare i 62, 63 mila dollari non mi meraviglierebbe ok? non mi meraviglierebbe anche perché ricordiamoci una cosa bitcoin e tutto il nostro settore ha bisogno soprattutto in questo momento di narrativa stiamo entrando nell'estate e il fatto che entriamo in questo periodo dell'anno che storicamente poi magari domani vi porterò una chart per vedere un attimino i mesi dell'anno come sono andati storicamente ma non è un mese ecco ad ampissima diciamo volatilità solitamente è un mese tranquillo si sta andando ve lo dico proprio fuori dei denti a realizzare se non si è già realizzato quello che io vi ho già vi dicevo a marzo ok? cioè il fatto di entrare in una sorta di lateralità estenuante per il retail medio ok? tutta questa roba qua ragazzi è su un candele daily e sono delle lateralità che al retail medio non fanno altro che distruggere psicologicamente nonostante il fatto che noi siamo a 66.500 in questo momento sembra una tragedia ma se andiamo a misurare quanto siamo dall'alltime high siamo distanti un 10% quindi non è che siamo in un bear market siamo in una condizione appunto tanto distante ne approfitto proprio anche per dirvi un'altra cosa perché alcuni di voi hanno commentato l'altro giorno e ultimamente adesso sul fatto che non siamo in un bull market ragazzi da 26 siamo passati sto basso ok? per non prendere i minimi siamo passati a rifare un nuovo lifetime high ora lo so anch'io che il bull market a cui siamo stati abituati era moon facciamo da 13 andiamo a 64 quindi adesso da 68 69 dobbiamo andare a 140 per essere in bull market però ricordatevi la run che abbiamo fatto in quest'ultimo anno che è estremamente forte lo vedete bene anche a livello mensile ok? lasciate perdere queste candele di lateralità che abbiamo avuto ma questa è una lag non da poco è una lag da bull market e il nuovo lifetime high è stato fatto quindi attenzione sempre a valutare le cose non in maniera il passato è stato e quindi sarà perché questa roba qua non funziona mi sono stufato di dirlo non funziona ok? sono narrative interessanti carine ci possono essere degli elementi di spunto importanti perché io stesso vi porto delle chart legate al passato ma sono spunti ok? sono idee e sono spunti non potete fare investimenti basati su una serie storica di 10 anni ma anche meno perché per rilevanza soprattutto di volumi e di exchange e di mercato ok? non potete farla perché altrimenti vi fate estremamente male insomma questo è quello che volevo dirvi a riguardo fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti fatemi sapere la vostra insomma è molto importante secondo me scambiarsi informazioni in questo momento vi ricordo dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione vi dare un'occhiata ai vari canali gruppi telegram gratuiti insomma tutto quello che c'è e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti